Non pronunciamo e sbagliano proprio il nome intero, Francesca Carta, Elisa, a qualcuno ha scritto che io avrei diventato con Annalisa, quindi sicuramente. Invece a Federica mi devo chiedere in realtà una domanda per entrambi, questo progetto che vi porta entrambi a lavorare a delle canzoni comunque di successo assomiglio comunque è sulla scelta di altri progetti della storia musicale, avete mai pensato di ripetere quello che hanno già fatto Fedezze e Jay Axe e quindi creare un duo dal grande successo? Secondo me, secondo noi la nostra forza, non lo so, ci completiamo ma non siamo una cosa unica, ecco, la diversità, siamo molto diversi quindi fare un progetto insieme forse sarebbe un po' troppo per ora. Esatto, mentre magari Fedezze e Axe, essendo due rapper o comunque provenienti da quel genere, quell'ambiente lì erano magari più complementari, con noi si farebbe un po' fatica, abbiamo fatto già un po' fatica questo brano perché appunto abbiamo dovuto togliere, come dicevamo prima, la parte veloce, ci siamo smussati per far sì che fosse 50 e 50, quindi Shade e Federica, Federica e Shade, non featuring, è 50 e 50. Grazie. 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 Grazie.